Quella che io ho definito forse una delle partite più belle e di sicuro il miglior secondo tempo stagionale del Pescara. Sì, molto bene, però di fronte avevamo una squadra che secondo me in questo momento è una delle più in forma del campionato, una squadra organizzata, forse la migliore che abbiamo incontrato fino adesso, però siamo riusciti anche questa volta a ottenere tre punti, questo è molto importante. Faccio una notazione che non so quanto interessi a Luca Matteassi il 19 settembre, il Pescara è da solo in testa del campionato. No, siamo alla quarta giornata, fa piacere, siamo molto contenti di questo, però siamo alla quarta giornata, il campionato è ancora lungo e sarà dura fino alla fine, ma vogliamo, come dico sempre, vogliamo cercare di stare su. La partita, pronti via il Monteparchi ha aggredito in maniera incredibile, andava su tutti i portatori del Pescara, Pescara è stato anche fortunato in occasione di un palo, secondo me Dursi stava andando in porta e non era offside nel primo tempo, però conti fatti il Pescara ha quei pericoli che si è concesso nelle partite precedenti, oggi non li ha mai regalati al Monteparchi, è d'accordo? Sì, qualcosina abbiamo concesso, ma come sempre, lo ripeto, purtroppo in corso di una partita si concede sempre qualcosina, però abbiamo avuto anche diverse occasioni, forse abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, la decisione dell'ultimo passaggio, ma altrimenti abbiamo fatto molto bene anche oggi. Le scelte poi le chiederemo al tecnico Auteri, però la squadra che ha costruito con la società al DS Matteassi dà tantissime alternative. Sicuramente, sicuramente, ci sono tante alternative, tanti giocatori con caratteristiche diverse, siamo molto contenti di questi ragazzi che sono qua e ripeto, ora riposiamoci un giorno e poi penseremo alla prossima. Cosa le cose le è piaciute di più di oggi? No, questi ragazzi ci provano sempre fino all'ultimo, forse potevano fare qualcosa in più alla fine, con, ripeto, qualche scelta, l'ultimo passaggio sbagliato, però va bene così. Forse un rammarico, mi corregga se sbaglio, Matteassi, prima della domanda da studio di Massimo Profeta, che il Pescara nel secondo tempo, nel suo miglior momento, quando oramai il Monteparchi non riusciva neanche più a superare la linea di metà campo, ha preso il gol del pareggio. Sì, però, questo è il calcio, la Serie C, sappiamo tutti che è un campione difficilissimo, ci saranno tante partite così, però, ripeto, anche oggi siamo riusciti a ottenere tre punti e questa è una cosa fondamentale, molto importante. Massimo. No, intanto volevo fare i complimenti a Luca Matteassi per questa vittoria che è importantissima, è riuscita a cambiarla la squadra, dopo un primo tempo, secondo me, complicato, in cui ha sofferto il ritmo, l'aggressività, il Monteparchi corre molto, ha anche una propensione al gioco, voglio dire, è una squadra, sinceramente, che ha confermato tutto quello che di buono si è detto fino a questo momento. Ecco, nel primo tempo, mi vorrei focalizzare sui primi 45 minuti, detto che la vittoria è strameritata, perché nella ripresa siete stati bravi a cambiarla. Ma, ecco, avete sofferto, avete fatto fatica a trovare le misure, le distanze tra i reparti? Sì, sì, è vero, nel primo tempo qualcosa non è andato, però la squadra ha tenuto bene il campo, abbiamo concesso un po' di occasioni a loro, ma poi alla fine della partita l'abbiamo sempre fatta noi. Ora Massimo, ultima domanda. No, vi piace il 2-1, perché questa è la terza vittoria con il medesimo risultato, niente male, insomma, no? Cioè, poi due gol di media partita, sono 12 Coppa Italia compresa. Sì, ci ho pensato anche io, questo risultato che sta venendo fuori spesso, però l'importante era ottenere tre punti e le abbiamo ottenuti. Arrivasse anche tutte le altre partite, non è che ci dispiace? Benissimo. Posso chiedere un'ultima cosa, da domani arriverà, è la settimana giusta che si aggrega a Balzano col gruppo? Parliamo, io non so se si parla sempre, parliamo della partita e dei giocatori che sono qua a disposizione, non so se domani o domani l'altro arriverà a Balzano o altri due, altri cinque, però bisogna parlare di quelli che sono a disposizione, questi 24 giocatori che sono in lista, che sono la cosa più importante. Parliamo sempre di altre cose, insomma. Allora, le chiedo dei 24 che nel lista perché Clemenza non era in panchina per quel problema alla caviglia? Niente di grave? Sì, no, niente di grave, ho avuto due problemini, sia Pompetti che lui e sono stati fuori. Come stanno? Eh bene, adesso Pompetti domani o domani l'altro valuteremo. Ah, quindi c'è più di una faticamente? No, vediamo quello che ha perché stamattina sentiva fastidio e quindi il mister ha preferito non rischiarlo e valutiamo e poi valuteremo anche Clemenza. A proposito, visto che il tecnico Autari sta parlando in conferenza, quindi possiamo tenere se possiamo il direttore Matteassi un altro po' qui con noi in diretta. Volevo chiedere come è sembrata la prestazione di questa difesa nuova perché con il Lanes e Ingrosso e Lati di Drudi in campionato è la prima volta che si vedevano, anzi con Drudi proprio la prima volta in assoluto. Io ho visto una squadra più blindata, più compatta lì dietro. Sono giocatori con caratteristiche diverse, più adatti allo scontro fisico, a tenere botta con l'attaccante perché sono giocatori più fisici, più strutturati, però insomma abbiamo tanti giocatori con caratteristiche diverse e va bene così. A proposito, Ingrosso è uscito per un problema alla spalla, abbiamo visto solo precauzione o c'è qua da verificare anche lui le condizioni? No, è uscito, ha preso questa botta alla spalla, è normale che domani verificheremo anche il suo problema, speriamo che non sia niente di grave.